Rifornimenti individuati. Caricamento coordinati. È tutto? Sì, anche in buone condizioni. È meno di quel che pensavo. Cioè allora devo rubare un paio di guanti nuovi. Non so, non credo che paga il prezzo che pago. Senti, ci siamo fatti il culo per rimediare questa roba. Paga e basta. Ok, ok. Devo rubare un paio di guanti nuovi. Richiesti rinforzi della JTF. Attenzione, nemici in arrivo. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, rilevato congegno esplosivo. Questo posto è nostro. Vieni fuori e combatti. È quel che ti meriti. Siamo difendenti. È tutto nostro. Basta, non è l'ora di finirlo. È rialmato. È rialmato. Forza, redditi. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, rilevato congegno esplosivo improvvisato. Outro. Sì. Sì. Oddio! Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, rilevato congegno explosivo. Non hai possibilità. No! Non c'è nemmeno sfida! Non c'è nemmeno impegnato! No! Confermato. Carico ottenuto. JTF notificata per il recupero. Rilassati. Ora ci siamo noi. Sì. 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 Sì.